Alla luce degli incidenti in serie che si sono verificati negli ultimi mesi a Teramo, soprattutto in piazza Garibaldi, il sindaco ha annunciato misure tampone per aumentare la sicurezza dell'attraversamento pedonale. I provvedimenti sono innanzitutto un giro di vite per il controllo della città, in particolare dei passaggi pedonali e ciclopedonali. Sono state nel 2015, i verbali fatti sono stati 8.600, c'è bisogno di un manciore controllo, in particolare su questi due aspetti. Si è deciso di rinnovare e di rivellare la segnaletica orizzontale e verticale. Per quanto riguarda via Cavacchioli, tempo permettendo, domani si farà l'asfalto, verranno meglio evidenziati i due percorsi pedonali, anche attraverso alcuni aspetti di carattere luminoso. Ci sarà un vigile, almeno nel primo periodo, che ci inviterà i cittadini a utilizzare il sottopasso, almeno fino alle ore 20, poi dalle 20 alle 8 invece il sottopasso è chiuso e si potrà utilizzare il passaggio che però sarà meglio evidenziato. È chiaro che bisogna fare un invito anche a quelli che sono gli automobilisti, perché comunque quando c'è una striscia pedonale bisogna fermarsi, bisogna fare lo stop. Questo lo prevede il coce alla strada, altrimenti finisce tutto, noi è inutile che facciamo miglioramenti e miglioriamo alcuni aspetti. Sicuramente è minore rispetto agli altri problemi, ma il passaggio in Piazza Garibaldi, quello che purtroppo negli ultimi giorni ha visto diversi incidenti, quello verrà spostato? No, quello resterà lì per adesso, però verrà migliorata la visibilità di quel percorso pedonale, in questa fase, poi vedremo successivamente. Ripeto, intanto c'è la possibilità di utilizzare il sottopasso, che credo c'è un aspetto importante. Poi in una fase successiva stiamo riflettendo su quello che devono essere altri tipi di provvedimenti, però già questo mi sembra un provvedimento che migliorerà quantomeno l'utilizzo delle sisce pedonale in maniera corretta.